Un tempo le unioni tra Roma e Madonna erano un commercio razionale, erano un affare algido che non riguardava affatto l'affetto, ma piuttosto il fatto di unire il vostro appezzamento di terra con quello di una persona della quale, a esser fortunati, ci si poteva nel tempo innamorare. Questo tipo di tradizione è stata sostituita dall'unione romantica, la quale ha determinato che l'unica ragione sostanzialmente valida per dare inizio a una relazione è il cuore che batte, il sentirsi innamorati, l'istinto. E poche altre domande. La persona viene visitata da una sensazione divina e questo basta e deve bastare anche a coloro che eventualmente non approvano per motivi decisamente più terreni. Il matrimonio di interesse era così arido, pedante e cauto che l'attuale legame sentimentale ci spinge a ritenere che riflettere troppo sull'unione sia inappropriato. Analizzare le nostre unioni suona proprio antiromantico, insomma. L'istinto, comunque è determinante, e la velocità di innamoramento sembrano essere un segno sicuro di successo proprio perché il vecchio stile degli unioni sicure era una minaccia alla propria felicità. Nell'unione per interesse si rispondeva a domande di questo tenore, per esempio chi sono i suoi genitori, a quanto ammonta la dote, ha un buon lavoro, è illibata. Nell'unione romantica si determina il valore di un rapporto tramite l'incapacità di pensare a altro se non al partner, non al desiderio sessuale nei confronti del partner, il ritenersi unici. Se ci metti anche la compatibilità chimica, hai voglia che festano. Adesso, tanto per fare le cose a modino, bisognerebbe introdurre nuove questioni. Com'è come amica, come amico? Che tipo di difetti ha, ovvero posso sopportarli? Con lui o lei posso svilupparmi come individuo? È una persona che mi intrigherebbe sentendola parlare dietro un muro senza poterla vedere? Che rapporto ha con i soldi? Che non è la stessa cosa di ha tanti soldi? Ovviamente vale la pena se si decide di fare le cose serie, di interrogarsi insieme su alcuni fondamentali. Che possono essere, vuoi avere figli? Io amo gli animali e tu? Io mangio una fiorentina al giorno? Tu sei vegano per caso? Non lo so. Certe cose cambiano, evolvono altre meno, in effetti. Ad esempio, la gatta frettolosa fa sempre i gattini ciechi. D'altra parte, il segreto di ogni successo sta nell'agire e non nella continua circospezione. L'istinto, ciò che proviamo nel contingente, usato come unico metro di misura per giudicare la bontà del nostro amore, o meglio, per determinare il successo della coppia, è decisamente un azzardo. Non avete idea, o forse dolorosamente sì, di quante coppie scoppino per non essersi prese la briga di farsi giusto due domandini in più. L'istinto è fame, ok? Ma soddisfare la fame non è detto che ci eviti l'indigestione. Quindi sappiate moderare l'istinto senza privarvi dell'ebrezza che esso può donarvi. Esattamente come quando siete riusciti a fermarvi dal bere troppo vino, garantendovi un sorriso ed evitando la nausea. L'istinto è un'attività che non è stata iniziata a fermarvi dall'ebrezza. Grazie a tutti.